Gli spazi pubblici di Martano sono un luogo di incontro e di aggregazione sociale della cittadinanza. Piccoli paesaggi urbani ben curati, decorati dal verde e da preziose opere d'arte. Il parco giochi è il polmone verde dedicato alle famiglie e ai più piccoli, in cui è possibile godere della tranquillità del luogo e dell'atmosfera circostante. La villa comunale, situata nel cuore del centro di Martano, rappresenta il punto di ritrovo principale della comunità. A donare bellezza è la fontana del maestro leccese Fernando de Filippo, opera che celebra l'albero dell'olivo. Altre suggestioni concettuali si riscontrano nel Giardino della Conoscenza, pezzo realizzato da Luigi Scardino, sul disegno dell'artista francese Nicole Gravier. Notevole è il monumento dell'acqua, scolpito da Ercole Pignatelli, sintesi delle espressioni decorative barocche. Il celebre Armando Marrocco ha realizzato invece la Fontana degli Angeli, riformulando concettualmente il design degli antichi contenitori di olio, chiamati appunto Angeli. Infine, ma non meno importante, la Fontana di Piazza Assunta di Martano è un'opera di pregevole architettura e di interessante impatto estetico. Gli spazi pubblici sono utilizzati spesso come location di eventi culturali e di intrattenimento e rappresentano un fiore all'occhiello della sensibilità martanese verso la cultura e la promozione dell'aggregazione sociale multigenerazionale.